La prima serata della Domenica di Canale 5 continua ad essere dedicata alla storia inglese. Da domenica 23 settembre, nonostante il flop della prima stagione, vanno in onda gli episodi della seconda stagione di Vittoria. La serie tv inglese racconta la vita pubblica e privata di una delle regine più amate dai sudditi inglesi. Come se non bastasse, anche il matrimonio con Albert ha subito le conseguenze del parto. Il marito, infatti, è sempre più impegnato a dimostrare di non essere solo il principe consorte creando in Vittoria malumori al punto da anticipare il suo ritorno in pubblico. A complicare ulteriormente la situazione è la notizia della seconda gravidanza. Cosa accadrà negli episodi in onda questa sera? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni. Vittoria 2, anticipazioni 30 settembre, trama e ordito.Nel primo episodio della serata dal titolo Trama e ordito, in Inghilterra, la situazione economica sta diventando sempre più preoccupante. Il malcontento del popolo aumenta e Vittoria, dopo aver ascoltato lo sfogo di un tessitore di seta, originario di Spitalfields, un'area impoverita che, però, potrebbe essere risollevata dal mercato della seta, decide di attuare un'idea che potrebbe cambiare le sorti del paese. La regina, così, ordina di organizzare uno sfarzoso ballo a palazzo in stile medievale nel corso del quale tutti gli invitati indosseranno abiti realizzati con la seta di Spitalfields. Tuttavia, l'idea non scatena l'entusiasmo di Robert Peele e del marito Albert. Nonostante tutto, Vittoria decide di organizzare ugualmente il ballo al quale Albert decide di partecipare pur non essendo d'accordo consapevole dei suoi doveri comiugali. L'evento è un successo da un lato ma non fa che aumentare il malcontento popolare nei confronti della nobiltà. La regina, inoltre, non riceve notizie da Lord Melbourne e chiede a Emma Portman di indagare. Secondo episodio dal titolo, Peccati del Padre.Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo I Peccati del Padre, Albert parte per la Germania per dire addio al padre, scomparso all'improvviso. Il marito è un'esercizio di vita. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like. Grazie.